Per una questione di tempi che ahimè ci hanno rubato. Sì, certo. Allora, buongiorno a tutti. Io cercherò di scendere un po' più nel dettaglio dell'impiego pratico, quotidiano, dopo tutte queste considerazioni che sono ovviamente fondamentali per poter comprendere qual è il valore di S-Drive. C'è una considerazione in funzione di quello che diceva anche il dottor Pace poco fa, che purtroppo noi siamo abituati ad essere inquadrati in una convenzione, tant'è vero che si parla di medicina convenzionale. Quindi diventerebbe per quanto simpatico magari chiedere a qualche collega, anche specialista, di spiegare esattamente come funziona il tracciato elettrocardiografico. Cioè spiegare qual è il meccanismo per il quale un sensore che legge delle frequenze elettromagnetiche, perché noi promaniamo a frequenze elettromagnetiche, le nostre cellule vibrano, e come è possibile che si tramuti sulla carta millimetrata un sottosnivelamento del tratto ST, piuttosto che un allungamento del QT. Ecco che diventa un po' periglioso, quindi il problema è che molto frequentemente quando non si conosce si crea la barriera, perché per conoscere bisogna metterci del proprio, impegnarsi e studiare. Ora, detto questo, io parlo un po' di impiego di S-Drive soprattutto nello sport, seguo tanti atleti, insomma diversi olimpionici, di diverse discipline, la ginnastica ritmica, il pattinaggio artistico, piuttosto che ciclismo, atletica, dalle belle italiane alle bestie marocchine. Voglio soffermarmi un attimo qui, perché prima veniva fatto anche dal professor Spaggiari riferimento al percorso accademico universitario. Ti inquadra in maniera paradossale patologia, diagnosi, terapia. E da qui non scappi, perché se va bene impari a riconoscere una patologia facendo una buona diagnosi, ma poi la terapia chiaramente è un punto di domanda, perché poi è sempre terapia empirica. E molto spesso, per non dire sempre, la terapia è una terapia farmacologica. Quindi si va sul recettore, sulla saturazione che la molecola fa del recettore e si produce un effetto. Questa però è molto meccanicista come visione e soprattutto riduzionista, perché noi nel momento in cui andiamo a concentrarci sempre più sul singolo dettaglio, ci perdiamo fondamentalmente innanzitutto quello che è l'ambiente, cioè il paziente, che non è fatto solo di una malattia, ma è una persona, ed è costituita da una serie di fattori, che sono il corpo sicuramente, ma anche la mente e anche le emozioni. Quindi la cosa simpatica è che con S-Drive si riesce a volte ad avere delle evidenze in merito anche alla salute cerebrale, piuttosto che proprio allo stato emotivo della persona. E quindi diventa difficile, senza questo strumento, riuscire ad avere un dato magari che ci aiuta. E poi vediamo anche perché. Si parlava di prevenzione. Ecco, questo è un dato del 2013, purtroppo è un dato dell'Ocse. Purtroppo oggigiorno la situazione è ancora peggiore, purtroppo. E se noi consideriamo quanto ogni stato investe del proprio budget sanitario in prevenzione, vediamo nel 2013 l'Italia dove si trova, allo 0,5%. Oggi, per chi soprattutto fa medicina di famiglia, diventa difficile non solo fare terapia, ma fare anche diagnosi. Quindi a quel punto figuriamoci fare prevenzione. Questo ci dice che la prevenzione comunque deve essere una scelta assolutamente personale. Ecco che il nostro ruolo nell'aiutare, nel far comprendere ai pazienti quanto sia fondamentale che ognuno si prenda cura di sé e si responsabilizzi, sia poi l'elemento vincente, a volte purtroppo non sufficiente, ma determinante tra una buona condizione di salute che permane nel tempo, piuttosto che un ammalamento che avviene più precocemente o magari con un'entità della patologia più importante. Abbiamo detto, già Giorgio parlava di tantissime sostanze chimiche, se noi guardiamo fondamentalmente la produzione di alimenti, abbiamo circa 40.000 prodotti chimici e quindi si capisce il motivo per il quale l'ammalamento non è così una condizione anormale. Abbiamo accennato il fatto che c'è una modificazione della sintesi proteica. Quindi quello che ad oggi l'epigenetica ha dimostrato è che cambiando chiaramente la sequenza amminoacidica fondamentalmente abbiamo una conseguenza in termine funzionale. Allora io ho voluto parlarvi velocemente a questo punto di un caso, di una ragazza di un'olimpionica di 18 anni che fondamentalmente stava assolutamente benissimo, ma all'improvviso è iniziato ad avere problemi di proprio carenza energica, sostanzialmente una mancanza di forza muscolare assoluta e poi questo carattere angelico che ha sempre avuto si era trasformato in una fondamentale intrattabilità, era diventata particolarmente irritabile. Quello che però preoccupava era come praticamente nel giro di pochissimi giorni fosse piombata in questa condizione fisica che lasciava alquanto perplessi. Quindi chiaramente la prima cosa è stata fare una serie di valutazioni ematochimiche inserendo una serie di parametri che molto frequentemente mi trovano a dovere confrontarmi a volte anche in maniera un po' come dire poco simpatica e battagliera con alcuni colleghi perché poi quando devono passare alla pratica nella prescrizione in convenzione di alcuni esami non capiscono perché a una ragazza di 18 anni fare ad esempio il cortisolo piuttosto che l'omocisteina, piuttosto che ad esempio la vitamina B6 o la vitamina D perché spesso mi sento dire che il mio medico di famiglia mi ha detto perché la vitamina D ha 18, ha 20 anni, ha 16 anni dimenticandoci che siamo una popolazione che vive nell'emisfero nord e quindi per definizione lo stesso MS quando era credibile quando era più credibile diciamo così comunque la stessa organizzazione della sanità dice che statisticamente chi vive al di sopra dell'equatore fondamentalmente tende ad essere carente di vitamina D perché si espone meno al sole e tutta una serie di considerazioni ora perché ho voluto condividere questa slide perché qui si pone una prima grande differenza c'è una grande e sostanziale differenza appunto tra il valore ematico e quello che poi dopo è il discorso a livello tessutale perché quello che noi vediamo con S-Drive è proprio la condizione tessutale quindi se noi prendiamo ad esempio la vitamina B6 la B6 i valori ematici me la davano comunque come rientrante nei range mentre invece la vitamina D sostanzialmente veniva indicata come particolarmente carente 13 ok se io poi vado ho fatto un piccolo inciso sulla vitamina B6 perché è importante perché io la uso a riscontro anche diciamo a riscontro delle CPK o delle CK che in un'età mediamente sono alte una ragazza di 18 anni fino a una donna comunque fino a 500 può arrivare quando fa un'attività comunque intensa quotidiana il maschio può arrivare anche a 7, 800, 1000, anche superiore a 1000 non è considerato patologico però per capire se è solo un danno da carico quindi è un iper lavoro muscolare quindi aumenta il catabolismo e invece per capire se è solo invece che quello ci sia una condizione diciamo metabolica muscolare la vitamina B6 aiuta proprio in quel senso ecco perché a quel punto è importante andarla a vedere soprattutto negli atleti ma non solo negli atleti perché anche l'anziano è un protocollo interessante quindi ho fatto questo preambolo per dire che cosa che come diceva il dottor Pace se noi guardiamo a pagina 3 in alto a destra troviamo una finestra e qua vediamo che vengono indicati quattro elementi sistema ormonale, sistema muscolo scheletrico metabolismo degli zuccheri e sintesi proteica che già in effetti indirizza perché quando comunque non si riesce ad avere un quadro particolarmente comprensibile e gli esami del sangue non avevano dato un'indicazione diciamo particolare permesso che quegli esami io li avevo fatti quando ancora non avevo S-Drive avevo intrapreso un piano d'azione con l'atleta ma purtroppo a distanza di un mese non avevo visto fondamentalmente delle modificazioni e quindi questo preoccupava in primis per la salute dell'atleta e in secondo luogo anche per la tranquillità dei genitori e anche delle allenatrici e dello staff federale quando è arrivato l'Es-Drive è stato per me comunque uno strumento ed è tutt'oggi uno strumento assolutamente fondamentale per arrivare a capo di questa situazione senza Es-Drive io non ci sarei mai arrivato ma non solo io ho parlato anche con altri amici, colleghi ho chiesto supporto nel mentre a un amico endocrinologo di Niguarda per cercare di trovare una soluzione e anche lui mi ha detto guarda assolutamente non saremmo mai arrivati a capo della cosa allora se noi andiamo a vedere il campo delle vitamine noi vediamo che vengono evidenziate come diciamo viene suggerito perché la C sta per consigliato viene suggerito di intervenire sulla vitamina C sulla B6, sulla B1 e sulla A1 e qui è sorto il mio primo punto di domanda ecco perché il dottor Pace diceva che questo è uno strumento che aiuta aiuta a riflettere innanzitutto aiuta ad uscire dagli schemi della convenzione perché molto frequentemente in medicina occorre una buona creatività ma non solo in medicina diciamo anche in ambito diciamo terapeutico generale anche il biologo nutrizionista può avere un momento dove serve l'intuizione per venire a capo nella condizione che magari è calcificata e non si modifica quindi la prima riflessione che ho fatto ho detto ma come la B6 mi dice il valore ematico che rientra nel range e qui il valore tessutale mi dice invece che è suggerito integrarla e come ad esempio tra l'altro vedo una vitamina D3 sopra la vitamina C a sinistra la vitamina D3 che non mi viene neanche considerata e qui parte un po' il ragionamento mio anche da fisiologo e dico bene quindi mi dice una vitamina che nel sangue viene data per carente che qui fondamentalmente non ha necessità di essere supportata e una vitamina invece che a livello ematico rientra nel range e qui mi dice che deve essere supportata prende sempre più corpo il concetto che non c'è un parallelismo tra concentrazione ematica e concentrazione tessutale banalmente anche perché bisogna capire spesso è successo e succede che magari quel soggetto non specifico non ha un'espressione recettoriale specifica per quel tipo di sostanza quindi uno può avere una quantità esagerata ad esempio di vitamina B12 tanto per fare un esempio ma poi non avere l'espressione recettoriale quindi la B12 non riesce ad entrare a livello cellulare e quindi ecco che incominciano a cambiare i paradigmi incomincia a cambiare il metodo di valutazione ci si ferma ecco perché è importante prendersi del tempo per studiarlo il report proprio perché da qui si possono dedurre una serie di vantaggi che aiutano nella valutazione complessiva del paziente soprattutto nell'identificazione di quella che è la soluzione migliore e soluzione migliore che deve necessariamente e frequentemente passare attraverso una serie di priorità non si può fare tutto insieme se poi andiamo a vedere il concetto dei minerali non dava fondamentalmente niente di significativo però il potassio comunque in basso a sinistra era un elemento che sostanzialmente richiedeva un'attenzione superiore a mobildenum, manganese, boro e calcio come ad esempio attenzione merito al cromo e anche lo iodio fondamentalmente era un elemento da poter tenere in considerazione il dottor Pace ha considerato tutta la parte lipidomica quindi degli acidi grassi quindi qua senza entrare più di tanto nel merito però il gamma linoleico ha una determinata funzione anche nel mantenimento del rapporto massa magra-massa grassa comunque come antiossidante c'è comunque un DHA se guardiamo sotto comunque in una condizione di iperutilizzo sostanzialmente quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione questi dati da un esame di sangue noi non li avremmo assolutamente neanche pensandoci tutto il quadro degli antiossidanti quindi fitoestrogeni, sulforafano l'acido, l'alfa lipoico le antocianidine i flavonoidi che comunque sono ridotti ai minimi termini quindi anche qui soprattutto quando si parla di un atleta ma quando si parla anche di un anziano di un paziente oncologico o di un paziente con una condizione immunologica come può essere un lupus piuttosto che una fibromialgia una polimialgia una siogren un'artrite reumatoide è chiaro che sono tutti i fattori che ci aiutano a avere un quadro d'insieme più coerente e soprattutto più utile a cercare di trovare una soluzione premesso questo è una noi vediamo che ci sono alcuni campi che sono evidenziati sul loro perimetro questo ci sta dicendo che non ci sono delle condizioni di difficoltà oggettiva in essere ma che si sta presisponendo l'organismo ad avere potenziali problemi in questi ambiti ecco che qua entra in gioco la parte preventiva il quadro aminacidico ovviamente andava valutato capire se questo questo deficit muscolare di energia dipendeva anche da questa condizione quindi è stata fatta una valutazione a tutto tondo dell'asset degli aminoacidi e poi c'è questa possibilità di valutare anche la resistenza a livello intestinale quindi virus, batteri, post virus muffe, spore, funghi, parassiti quindi anche qui quando si pensa quando si ha davanti un paziente e si ipotizza non so, un colon irritabile piuttosto che un assibo è chiaro che questo sostanzialmente è un quadro che potenzialmente ci può aiutare a come dire indirizzare meglio anche il come andare a supportare l'intestino intestino che io ricordo sempre lo ricordo sempre anche i pazienti che è la parte dominante del nostro sistema immunitario e quindi se vogliamo avere un sistema immunitario modulato e quindi capace, competente nei confronti di ciò che succede virus compresi anche in quello che gira da un annetto a questa parte è chiaro che noi dobbiamo avere la capacità di dare un asset intestinale di un certo tipo se noi dobbiamo intervenire dobbiamo intervenire essendo certi di non commettere errori perché a volte quando si interagisce con l'alieno intestinale dando dei probiotici si rischia addirittura di peggiorare la situazione fortunatamente non aveva problemi né di contaminazione di metalli pesanti né di radiazioni di idrocarbure e sostanze chimiche quindi almeno da questo punto di vista mi sono rasserenato e aveva così come tutte comunque le ragazze e i ragazzi di oggi un uso abbastanza importante dei tablet dei cellulari che comunque non davano significative indicazioni ma quello che è venuto fuori sostanzialmente è l'uso del forno a microonde perché poi quando lei si scaldava perché vivendo comunque da sola si scaldava gli alimenti lo faceva col forno a microonde e si metteva davanti al forno a microonde quindi abbiamo stabilito che quando se proprio non poteva fare a meno usare il forno a microonde quantomeno non si doveva posizionare di fronte allo stesso perché poi anche qui stile di vita ma anche abitudini comportamentali ecco quando ho fatto il test questo elemento sicuramente non 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 l'ho valutato nella sua coerente importanza cioè vengono identificati una serie di additivi alimentari quindi di conservanti sostanzialmente che in quel momento specifico per quella singola persona sono particolarmente negativi particolarmente diciamo nocivi io li ho guardati ho detto bene interessante e poi sono andato oltre al di là di quello che è stato l'intervento in sé che poi conta ma non conta nonostante poi anche l'uso di S-Drive io per un altro mese non ho visto il miglioramento questo per dire che cosa che sono andato poi a riprendermi in mano il test e a rivalutarlo ci ho speso una notte intera una notte dopodiché ho detto l'unica cosa che ho tralasciato è stata questa quindi sono andato a prendermi che cosa a valutare innanzitutto queste sostanze dove fossero quindi sono andato a consultare il sito dell'EFSA quindi dell'ente di sicurezza alimentare europeo e sono andato a vedere quali erano quelli che sostanzialmente di quei dieci evidenziati che davano maggiori probabilità di eventi negativi cancerogeni e quant'altro e ho scoperto che diciamo quelli maggiormente presenti erano presenti nella frutta essiccata che la ragazza usava regolarmente nella nella bresau e nel prosciutto crudo che sono spesso insomma per gli atleti due alimenti di riferimento nei cracker e nei prodotti da forno soprattutto nel pan bauletto ok oltre al fatto che la ragazza mangiava comunque la frutta amava mangiare la frutta con la buccia e quindi purtroppo la gomma lacca ahimè riveste spesso i frutti perché i frutti oggi se non sono belli dello stesso calibro i perlucenti non li compra nessuno e quindi fatto salvo tutta questa valutazione ci siamo seduti fianco a fianco perché nei momenti di difficoltà mi siedo sempre in fianco soprattutto gli atleti essendo stato a mia volta un atleta un ciclista e quindi ho condiviso la necessità occupandomi anche di alimentazione e nutrizione integrazione nello sport condividendo la necessità di modificare l'alimentazione cambiando la tipologia di alimenti quello che è emerso è stato ovviamente un momento di turbamento perché togliere o modificare gli alimenti un atleta soprattutto un atleta professionista di questi livelli diventa un po' come sostanzialmente tagliargli una mano però siamo addivenuti a una considerazione di reciproca convenienza e a fronte di questo sostanzialmente la ragazza è tornata ad avere un buono stato di salute nel giro di un mesetto fondamentalmente tornata ad essere la ragazza che eravamo abituati a vedere calcare il ghiaccio delle piste internazionali questo per voluto essere particolarmente sintetico visto l'invito di Giorgio ma questo per dire che cosa che proprio senza S-Drive non sarei certamente arrivato a trovare la soluzione perché questa con andare a valutare comunque l'intossicazione tra l'altro così abbastanza voglio dire inconsiderata da parte della stragrande maggioranza dei clinici di queste sostanze conservanti chiaramente è stato il delta nel risultato positivo ma quello che e quindi io ringrazio Giorgio S-Drive e Cell Wellbeing che hanno messo comunque appunto questo questo strumento perché è veramente ultra prezioso nella giornata di qualsiasi professionista che si occupi di medicina in generale o che si occupi di voglio dire di nutrizione nello specifico ma è veramente un come dire un mirino che aiuta effettivamente a guidare maggiormente e con maggiore come dire specificità sul dato dei tessuti quindi di quello che effettivamente è la realtà e lo status quo nel momento dando comunque maggiore coscienza e anche maggiore come dire accoglimento al paziente perché la medicina in generale intesa come medicina la cura del paziente quindi anche la gestione della nutrizione rischia ultimamente anzi sta diventando sempre più tecnica sempre più orientata al dato singolo specifico oggettivo e a prendere sempre meno in considerazione la parte poi emotiva che è poi una delle motivazioni per la quale spesso i pazienti si lamentano dei vari professionisti che sono stati troppo sbrigativi che non gli hanno spiegato eccetera eccetera ecco il less drive può essere anche per ogni professionista attraverso il report come diceva il dottor Pace uno strumento importante per creare una liaison quindi un rapporto con col paziente ricostruendo quello che purtroppo i piani diagnostico terapeutici e le linee guida da questo punto di vista nell'arco degli anni hanno via via sempre più distrutto io avrei concluso Giorgio ho cercato di essere il più sintetico possibile grazie hai dato proprio grazie a tutti